Ciao, io sono Luigi di Clarintux, un tux per sempre. Benvenuti in questo video. Oggi riprendiamo la playlist dedicata a Vim, anche se ho visto che non c'è molto interesse. Diciamo che se già utilizzate Vim con soddisfazione e quindi il poco interesse è dovuto a questo, buon per voi. Se utilizzate come alternativa iMex, fate parte della chiesa di iMex, buon per voi. Altrimenti è davvero un peccato rinunciare alla potenza di un editor di testo come Vim. Non lasciatevi spaventare dal fatto che bisogna imparare i comandi di Vim. Non dovete diventare da subito degli esperti di Vim, vi basterà imparare i primissimi comandi per poterne apprezzare i vantaggi. E quindi lo preferirete praticamente da subito, dopo i primissimi passi, rispetto a editor di testo come G-Edit, Kate, ma anche Nano per parlare di un altro editor di testo da Terminale. Va bene, io non mi ripeterò, andatevi a guardare gli episodi precedenti. Nel secondo video ci arriviamo fermati dopo aver finito la lezione 2. Quindi vado in passo, ecco la lezione 3.1, il comando put. Avevamo visto comandi per cancellare qualcosa, ad esempio per cancellare una linea. Adesso batti P per porre il testo cancellato, prima ovviamente, dopo il cursore. Allora, muove il cursore alla prima linea, ok. Batti DD per cancellare la linea e depositarla in un registro di Vim. Muovi il cursore fino alla linea C, sopra quella dove andrebbe messa la linea appena cancellata. Allora, ci siamo messi alla prima linea. Batti DD, ok. E abbiamo cancellato la linea. Poi muovi il cursore qua, sulla C. Batti P per mettere la linea sotto il cursore. Ok. Adesso, come vedete, però, abbiamo B, C, A, D. Non sono in ordine, quindi le andremo a mettere in ordine. Semplicemente cancelliamo questa riga, la A. Ci posizioniamo sopra la B. Clicchiamo P. Adesso abbiamo A, B, C, D. Va bene, risolto. Abbiamo imparato, quindi, il comando put. Andiamo avanti, lezione 3.2, il comando replace. Batti RX per rimpiazzare il carattere sotto al cursore con X. Muovi il cursore alla prima linea qui sotto. E dobbiamo correggere gli errori. Quindi, dovremmo avere immettendo, quindi clicchiamo R e poi I maiuscola per rimpiazzare. Non dobbiamo scrivere RX, altrimenti andremo ad inserire una X. Quindi, prossimo errore qua, di nuovo, R per replace e poi E perché vogliamo una E. La stessa cosa facciamo qua. Replace S. Replace E. Replace A. Ok, immettendo questa linea qualcuno ha premuto, adesso R, M, R, U. Ok, alcuni tassi. Quindi, replace A. Replace G. E abbiamo finito, abbiamo corretto tutto. Allora, in realtà c'è un modo per essere più veloci, ma ancora il tutorial non ve l'ha spiegato. Quindi facciamo esattamente quello che ci dice di fare. R e poi il tasto che vogliamo rimpiazzare. Il carattere che vogliamo rimpiazzare. Ok. Ricordati che dovresti imparare con la pratica, non solo leggendo. Diamo avanti. Lezione 3.3. L'operatore Change. Per cambiare fino alla fine di una parola, batti CE. Allora, credo che abbiamo già fatto il CW per cambiare una parola. Comunque, W sta per word, per parola. La E sta per la fine di una parola. Questa è la differenza tra W ed E. Ok. E C sta per change, cambiare. Muovi il cursore alla prima linea qui sotto. Va bene. Posiziona il cursore alla U di LUB. Va bene. Ci siamo. Dopodiché, batti CE è la parola corretta. In questo caso, batti INEA. Ok. Batto CE. Dobbiamo scrivere linea. Quindi vado con I, N, E, A. Perfetto. Premi ESC per ritornare in modalità normale. E vai sul prossimo carattere da modificare. Quindi ci spostiamo su questa parola sbagliata. La P è giusta. Mi sposto al prossimo carattere. E vado con CE e scrivo AROLE. Quindi questa linea ha alcune parole da cambiare. Facciamo la stessa cosa qua. CE, cambiare. In realtà avrei potuto premere anche CW per cambiare la parola. Fa lo stesso. La stessa cosa facciamo qua. US è giusto. Quindi CE, scusate, usando l'operatore change. Va bene. Abbiamo corretto tutto. Nota che CE cancella la parola. E ti mette anche in modalità inserimento. Perfetto. Andiamo avanti. Altri cambiamenti usando C. L'operatore C cambia. Agisce sugli stessi movimenti di D. Va bene. L'operatore change si comporta come delete. Il comando è C, numero, movimento. Ad esempio, V che sta per parola, dollaro che sta per fine linea, eccetera. Muovi il cursore alla prima linea qui sotto. Ok. Posiziona il cursore al primo errore. Dov'è il primo errore? Questa linea deve essere aiutata a... Eccolo qua. Deve essere corretta. Ok. Batti C, dollaro, per cambiare da questo punto fino alla fine della riga. Quindi C, dollaro. Ecco, come vedete già il testo fino alla fine della linea è scompasso. Siamo in modalità inserimento e quindi possiamo scrivere corretta usando il comando C, dollaro. Ok, punto. Va bene. Andiamo avanti. Siamo già al sommario, quindi ricapitoliamo. Per inserire del testo appena cancellato premi P, put. Questo inserisce il testo cancellato dopo il cursore. Noi abbiamo solo visto come andare ad inserire una linea appena cancellata. In realtà con il comando put è possibile andare ad inserire anche un altro tipo di testo. Penso che lo vedremo in seguito. Ok. Per rimpiazzare il carattere sotto il cursore batti R, replace. E poi inserisci il carattere che vuoi. L'operatore change ti permette di cambiare dal cursore fino a dove arriva il movimento. Abbiamo visto C, E per cambiare fino alla fine di una parola. E abbiamo visto C, dollaro per cambiare fino alla fine di una linea. Va bene. Andiamo alla prossima lezione. 4.1. Posizionamento e situazione file. Batti CTRL G per vedere a che punto sei nel file e la situazione del file. Batti G maiuscolo per raggiungere una linea nel file. Allora vado con CTRL G e come vedete è comparso che siamo alla riga. Il cursore è alla riga 507. Di righe totali ne abbiamo a 967. Quindi siamo al 52%. La colonna invece è la 54. Mi sono spostato di un carattere a sinistra. Lo rifaccio. Come vedete adesso siamo alla colonna 73. Mi sposto in alto di una riga. E faccio di nuovo CTRL G. Come vedete adesso siamo alla riga 506. Va bene. Avete capito. Se batto G maiuscola mi sposto alla fine del file. All'ultima riga. Quindi. Ok. Dove eravamo? Qua. Allora. Batti G maiuscola per raggiungere una linea nel file. Per raggiungere l'ultima linea del file. Credo che qua ci sia un errore. G maiuscola sta per arrivare a fine del file. Assolutamente. Leggi l'intera posizione. L'intera lezione prima di eseguire un qualsiasi passo. Va bene. Tieni premuto il tasto CTRL e batti G minuscolo. Ossia batti CTRL G. Ok. Un messaggio aprirà in fondo alla pagina con il nome file e la posizione del file. Quello che abbiamo appena visto. Ricordati il numero della linea per il passo 3. Nota. La posizione del cursore si vede nell'angolo in basso a destra dello schermo. Se hai impostato l'opzione Ruler. Altrimenti no. Ma noi qua ce l'abbiamo impostata. Quindi premi G maiuscola per spostarti in fondo al file. Vedete? Batti GG minuscolo per posizionarti in cima al file. Quindi G maiuscola ci sposta alla fine del file. GG ci sposta all'inizio del file. In cima al file. Batti il numero della linea in cui ti trovi. E poi G maiuscola. Questo ti riporterà fino alla linea in cui ti trovavi quando avevi battuto CTRL G. Se ti senti sicuro nel farlo esegui i passi da 1 a 3. Perfetto. Allora prima CTRL G per vedere su che riga siamo. Siamo al 508. Adesso ci spostiamo a fine file con G maiuscola. Ecco siamo alla fine del file. Adesso ci spostiamo in cima al file con GG. Ecco adesso siamo in cima al file. La riga se non ricordo male era 508. Quindi 508 G maiuscola. Vabbè forse era 506. Vabbè avete capito non cambia nulla. C'è anche un altro modo per spostarsi su una determinata riga. Su una riga specifica. Ma qua ci dice che bisogna farlo con il numero. Dove era scritto? Batti il numero della linea in cui ti trovavi. E poi G maiuscolo. Va bene. Il comando search. Cerca. Batti lo slash seguito da una frase per ricercare quella frase. In modalità normale batti il carattere slash e il cursore va bene. Batti adesso errore seguito da invio. Questa è la parola che vuoi ricercare. Allora. Andiamo con slash e 3R2O RE. Ok. Come vedete mi ha riportato su questa parola. E penso che sia anche l'unica occorrenza di questa parola. Quindi con slash e quello che vogliamo ricercare ci verrà poi trovata l'occorrenza di questa cosa. Per ricercare ancora la stessa frase batti soltanto N. Ok. Se ci sono più occorrenze con N mi sposto alla prossima occorrenza. Per ricercare in direzione opposta N maiuscola. E quindi come vedete mi sono rispostato sulla prima occorrenza di errore. Per ricercare una frase nella direzione opposta usa il punto interrogativo al posto di slash. Quindi facciamo che intanto mi sposto un po' più in alto. No. Mi sposto più in basso in realtà. Mi sposto in basso. Vado con il punto interrogativo. Scrivo errore. E come vedete la ricerca me la sta facendo all'indietro. Va bene. Per tornare dove eri prima nel file premi CTRL O. Tieni il tasto CTRL schiacciato mentre premi in OK. CTRL O. Va bene. E ci siamo spostati dove eravamo prima. Errore. Non è il modo giusto di digitare errore. Ok. Va bene. Quando la ricerca arriva a fine del file ricomincia dall'inizio del file. A meno che l'opzione va bene. E' chiaro. Quando abbiamo finito tutte le occorrenze della parola che stavamo ricercando. La ricerca comincia da capo. Dall'inizio del file. Andiamo avanti. Ricerca di parentesi corrispondenti. Batti il percento per trovare una parentesi tonda, parentesi quadra o parentesi graffa corrispondente. Quindi posiziono il cursore su una parentesi tonda, ad esempio qua, batto il carattere percento e come vedete ci siamo spostati alla parentesi tonda corrispondente. La parentesi aperta è qua, quella chiusa. Il cursore, ok, batti su un'altra parentesi, ad esempio qua, e come vedete ci siamo spostati sull'altra parentesi tonda che va a chiudere. Batto sulla parentesi quadra, va bene, avete capito come funziona. E' chiaro che questo è molto utile per i programmatori, se programmate, se utilizzate tante parentesi. Ecco, c'è pure scritto, non l'avevo letto. Va bene, andiamo avanti. L'operatore sostituzione. Ok, andiamo già su cose interessanti. Batti, due punti, S, slash. La stringa che andiamo a sostituire con la stringa che vorremmo sostituire è G. Va bene, è molto simile questa comanda a quello che si fa con SED, se conoscete SED. Quindi, muovi il cursore fino alla linea qui sotto. Ok, fatto. Batti, due punti, S, L, L, A, slash, A, L, A, invio. Quindi, la G non la stiamo mettendo. Allora, cosa succederà? Ci andrà a sostituire la prima occorrenza, questa qua, di L, L, A con l'A. Andremo quindi a correggere questo articolo, ma non andremo a correggere la seconda occorrenza e nemmeno la terza, perché non abbiamo messo G. Allora, ok, vediamo. Vedete, questo è stato corretto, ma non gli altri due, L, L, A. Adesso batti, due punti, S, slash, L, L, A, slash, L, A, slash, G. Adesso, aggiungendo la flag G, si chiede di sostituire globalmente sulla linea, ossia tutte le occorrenze, come vi dicevo. Ecco, adesso abbiamo corretto tutto. Per cambiare ogni occorrenza di una stringa di carattere tra due linee, batti, per cento, scusate, due punti, cancelletto, virgola, cancelletto, S, vecchio, poi nuovo, e G. Dove cancelletto e l'altro cancelletto sono i numeri che delimitano il gruppo di linee di cui si vuole sostituire. Ok, questo in realtà penso che si usi poco, bisogna avere l'esigenza di cambiare qualcosa all'interno di due righe ben specifiche. Invece, se vogliamo cambiare ogni occorrenza nell'intero file, questo si usa molto spesso, andiamo con due punti, per cento, S, la cosa che vogliamo andare a sostituire, poi la nuova stringa, e poi G. In questo modo verrà cambiato tutto, globalmente, ma non su una singola linea, su tutto il file, sull'intero file. Ok, adesso vediamo cos'è questo, GC, per trovare ogni occorrenza nell'intero file, ricevendo per ognuna una richiesta se effettuare o meno la sostituzione. Quindi la sostituzione sarà interattiva, ci verrà richiesto ogni volta se vogliamo sostituire oppure meno. Va bene, spero di essere stato chiaro, voi dovete fare i vostri esperimenti per imparare Vim, non basta seguire un video. Ok, facciamo il sommario e penso di chiudere il video qua. Quindi, CTRL-G visualizza a che punto siamo nel file, visualizza tutte le informazioni, come avevamo visto. G maiuscolo ti porta all'ultima linea del file, numero e G maiuscolo ti porta alla linea con quel numero, GG ti porta alla prima linea del file. Battendo slash, seguito da una frase, andiamo a fare la ricerca in avanti di quella determinata frase. Battendo punto interrogativo, andiamo a fare la ricerca all'indietro di quella determinata frase. Dopo una ricerca, batti N per trovare la prossima occorrenza, batti N maiuscola per trovare la prossima occorrenza, o la precedente occorrenza, perché facciamo la ricerca in direzione opposta. CTRL-O ti porta dove eri prima, quindi è molto utile se fate un GG oppure un G maiuscolo, con CTRL-O vi ritorno a parte alla posizione precedente. CTRL-I ti porta alla posizione più nuova, questo in realtà non c'era nemmeno scritto, lo vediamo adesso per la prima volta nel sommario. Va bene, battendo percentuale ci spostiamo sulla parentesi corrispondente. Per sostituire una stringa si usa questa sintassi, due punti S slash, quello che vogliamo sostituire, slash è quello che vogliamo mettere. Andremo a sostituire in questo modo la prima occorrenza sulla linea in cui ci troviamo. Se vogliamo sostituire tutte le occorrenze su questa riga, chiudiamo il tutto con la G finale, come vedete qua. Per sostituire tutto tra due linee andiamo a fare in questo modo, sostituendo il cancelletto con il numero della prima riga e il numero della seconda riga. Ma quello che si usa molto più spesso è questa sintassi, ovvero due punti segno del percentuale S slash vecchio slash nuovo slash G. In questo modo andremo a sostituire tutte le occorrenze sull'intero file. E niente, per chiudere, slash, scusate, due punti percentuale S slash vecchio slash nuovo slash G. In questo modo andremo a fare la stessa cosa che facevamo con il comando precedente, ovvero sostituzione sull'intero file, ma ci verrà chiesto di volta in volta se vogliamo sostituire oppure meno. Va bene, spero di essere stato chiaro, vi ripeto, ne vale davvero la pena, già siamo ad un punto in cui se siete sicuri su questi comandi, sono pochi i comandi che abbiamo imparato, ma già vi permettono di apprezzare i vantaggi che Vim vi offre. Con Vim sarete molto più veloci, potrete fare delle cose che prima non potevate immaginare, quindi ve lo consiglio assolutamente. Va bene, questo è tutto per oggi, ciao da Clarintux!